tema di oggi anzi le due parole chiavi sono coevoluzione e cambiamento io le declinero facendovi vedere tre dipinti però prima una brevissima introduzione noi come civiltà occidentale siamo ossessionati dal controllo e controllare la propria vita controllare la propria organizzazione controllare alla natura controllare i processi contro il concetto di controllo fa parte della nostra cultura e abbiamo costruito un imponente sistema concettuale organizzativo tecnico perché il controllo possa essere il più esaustivo possibile infatti noi ci fidiamo delle macchine perché nella maggior parte dei casi le macchine sono docili al nostro volere tranne quando si guastano e quindi vogliono anche loro la loro grado di libertà ci fidiamo meno delle persone perché le persone appena possono cercano di guadagnarsi i propri spazi di libertà allora è il problema è che il nostro ambiente e l'abbiamo capito da alcuni decenni è popolato da sistemi complessi le persone le organizzazioni gruppi la stessa natura è un sistema complesso e l'aspetto più seccante direi dei sistemi complessi e che si sottraggono la nostra volontà di controllo quindi il problema è come come fare a fronteggiare a convivere con i sistemi complessi dobbiamo arrenderci allora ecco per fortuna eh tra il controllo e la resa c'è una terza via e la terza via dipende proprio dalla una da una caratteristica sistemi complessi perché i sistemi complessi sono sistemi dinamici cioè cambiano continuamente evolvono sono sensibili a piccoli input famoso effetto butterfly e eh e sostanzialmente è vero che sono imprevedibile però però noi possiamo partecipare attivamente come individui come organizzazioni a questo grande movimento eh del a questa grande dinamica a questa dinamica collettiva dei sistemi complessi cioè possiamo sostanzialmente coevolvere con essi ecco eh e come eh diciamo eh come metafora di questa coevoluzione io ho utilizzato la metafora della danza però non tutte le danze consentono la coevoluzione e ve lo spiegherò attraverso tre dipinti quindi condivido lo schermo e vado in modalità presentazione ecco qua ecco qua riuscite a vedere il mio schermo sì benissimo grazie bene vai vai il primo ballo che vi presento è il ballo della ragione eh questo è un quadro di Gino Severini eh del 1912 Gino Severini Severini aderì sia al movimento cubista che poi a quello futurista e infatti viene chiamato un cubo futurista ora per comprendere questo dipinto voi dovete immaginare eh di guardarvi intorno mentre ballate per esempio un valser e girato vorticosamente cosa succede? Succede che eh mentre 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 girate eh vedete soltanto frammenti, schegge, sensazioni quindi c'è un tutto il mondo è tutto frammentato in questi piccoli pezzettini che la mente cerca in qualche modo di carpire e di assegnarne un segno, un valore, un nome, qualche cosa, cioè la ragione cerca di di tener conto di tutti questi frammenti allora eh da da una parte si può scorgere un bicchiere, da un'altra parte si scorge un pezzo di una faccia, poi si vedono frammenti dei vestiti colorati, ecco il problema di Severini e il problema che poi è il problema della ragione è che la ragione è brava a spezzettare il mondo ma è incapace di ricomporlo perché eh questa ricomposizione è sempre insufficiente è il principio che nell'ambito della complessità eh da Luhmann in particolare viene chiamato appunto del eh eccedenza della complessità del mondo rispetto alla complessità al complessità del sistema che osserva il mondo ecco ed è questo con cui bisogna fare i conti ed è questo con cui diciamo la filosofia del novecento eh sta facendo i conti perché ha scoperto questo principio di impossibilità. Il secondo dipinto che vi mostro è quello è un simbito molto famoso di Jack Vettriano è un pittore contemporaneo il dipinto del millenovecentonovantadue e anche qui vediamo un ballo il 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 ballo precedente di il dipinto precedente di Severini si chiamava Geroglifico dinamico di di Balta Barente già il titolo eh eh è chiarissimo questo si chiama The Singing Butler cioè il maggiordomo cantante eh e e cosa fa a Vettriano? Vettriano dipinge questi due personaggi questa donna con i guanti lunghi con un vestito da festa eh e un uomo in frac che ballano su una spiaggia in un in un cielo nuvoloso piuttosto plumbeo in un clima ventoso la donna a piedi nudi sembrano praticamente che sono scappati via da una festa e si trovano a ballare in questa questo luogo incongruo anche diciamo sostanzialmente ostile poi ci sono la maggior il la cameriere il maggiordomo che tendono in vano di riparare con gli ombrelli questi due personaggi ecco questo per me è il ballo della paura cioè di due persone due ballerine a vinghia ma in un ambiente ostile che cercano in qualche modo di trovare un senso attraverso questo eh questo abbraccia e infine vi presento il terzo quadro che è il ballo Bouchival di eh Augusto Renoir nel 1883 questo è un ballo molto interessante è un ballo in una festa campagnola dietro a sinistra si vede una tavolata imbandita con delle persone e se notate i colori rose e blu sono eh squillanti così come il rosso e il giallo dei cappelli che formano una serie di opposizioni che Morenne chiama appunto opposizioni costruttive ora qual è il 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 segreto di questi ballerini e i ballerini sono sono in movimento e il nostro Noir ci sottotutto una serie di eh eh diciamo di trucchi diciamo visivi per sottolineare questo movimento vedete il movimento della della veste che si muove e che si contrappona all all'arco 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 delle gambe del ballerino e oppure quel quel circolo no sopra delle mani dei e delle eh delle teste dei due ballerini che sembrano a me ricordare il lo yin e lo yang eh zen cioè qui sostanzialmente abbiamo una serie di opposizioni di movimenti di incontri di cooperazione di 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 che proprio è la natura del ballo cioè quello di seguire a comandare il ballo cedere avanzare ma soprattutto quello che accade in questo ballo è che i ballerini sono con immersi totalmente nell'azione partecipano non soltanto col corpo ma partecipano con la loro vita intera e la loro mettono in ballo per così dire la vita ed è questo questo è l'elemento l'elemento significativo questo è il ballo di menti innamorate ma questo questo elemento questo elemento questo è un indizio che ci può dire qualcosa sulla co-evoluzione beh io l'indizio l'ho trovato l'ho trovato nel paradiso di Dante perché nel paradiso di Dante eh Dante è catturato da eh dallo splendore della vista di Beatrice al volto di Beatrice e e e a un certo punto afferma che proprio perché è innamorato è immerso nel nella vista di del volto di paradiso eh di di Beatrice e Beatrice imparadisava la sua mente ecco questo è il punto centrale perché normalmente vedere significa distingue tra lo soggetto che vede e l'oggetto visto che la stessa cosa del controllo il soggetto che controlla e il mondo che è controllato ora la mente innamorata vede in modo diverso si cibba di ciò che vede si lascia conquistare e l'oggetto del 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 dell'amore piglia gli occhi per come dice Dante per invadere la mente e il ballo delle menti innamorate trasforma i due ballerini e li fa co-evolvere insieme in sostanza quello che voglio dire è che e questa è la lezione ballare con la ragione da solo non basta ballare con la paura non serve se vuoi ballare col mondo devi innamorarti di esso perché soltanto innamorando del mondo tu riesci a co-evolvere con esso e questa è la lezione dei ballerini di des noirs grazie 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 grazie